Ciao, sono Fulmini700 e ho avuto un nuovo video Oggi volevo fare una cosa nuova Questa serie sarà sempre la domenica La domenica sono un po' più stanco del solito Ve lo dico anche le mie ginocchia Sono più stanco del solito, non voglio di fare una sega E vabbè, faccio cose piccole tipo Questa serie coinvolgerà i cubi di Rubik Sì, a qualcuno fa schifo e a qualcuno garbano Come al mio amico Mattia Ciao Mattia, ti saluto perché mi hai chiesto di salutarti Nei video di cubi di Rubik E ti faccio questo favore, eh? Ringraziami Vabbè, questa serie... Allora, vi spiego in cosa andrà a consistere Allora, avrà un timer Ve lo faccio vedere dopo che così inizio subito dopo Avrà un timer Il cubi di Rubik che ho scelto oggi è il 2x2 Ho già fatto la prova con questo e l'ho lanciato Se non l'avete visto andatelo a cercare Io lo lancio perché è un percentente di merda quel cubi di Rubik Perfetto Farò... Boh, farò ed ecco Andrò che farò... Risolverò questi qui col timer Cerco di andare più veloce che possibile Bene, possiamo iniziare Perfetto, iniziamo Questo è il cubo di Rubik Adesso andrò a smontare Ecco Adesso guardo e poi inizio Di lui inizio Di lui inizio Di lui inizio Perfetto E' parto Grazie per la visione 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 Grazie per la visione